Ciao, sono Spieger98 e faccio questa introduzione prima del video di Techraft42 per scusarmi per il video che state per vedere perché riconosco che ho iniziato diversi progetti e non ne ho finito quasi nessuno. Mi rifarò nelle prossime puntate però per adesso guardatevi questa, godetevela, la qualità comunque non è risentita anche in questo video perché la qualità a mio parere e a parere di qualcun altro è ottima, magari è ottima no però buona perché non mi ci sono impegnato molto perché non avevo molto tempo e quindi l'ho fatta diciamo giusto per non lasciare un altro giorno senza video. Quindi niente, io sono Spieger98, ciao! Ciao a tutti, sono Spieger98 e benvenuti in un nuovo video qui sul mio canale. Come diretti siamo su Techraft42, nella scorsa puntata abbiamo provato a fare quella specie di cosa che si potrebbe chiamare farm ma non lo è, perciò non la chiamerò farm, ma il tentativo è fallito miseramente direi. Tu te ne vai a fare un po' in culo, fai come tu vuoi. E oggi non continuerà a tentare a fare quella, di fare quella merdaglia, perché è vuoto? Che succede? Ah, un bug visivo. Un bug visivo? Sei un bug visivo? Sei un bug visivo. Come se siete notte. Ehm, quello che voglio fare nella puntata di oggi, perché mi è uscita quella focce così, è sconfiggere l'Ender Dragon. Tan tan tan... Voi lo aspettavate? No? Lo sapevo. Allora, quindi, innanzitutto, come sapete, lo sapete spero, per sconfiggere l'Ender Dragon abbiamo bisogno... Oddio, cosa sei tu? Un attimo. Usage. Non hai un uso? Eh? Eh? No. Tiramite. No, fermi, fermi tutti. Vai là? Ok. Dicevo, per configgere quel bastardone, abbiamo bisogno di un arco. Sapete perché? Ma è molto semplice. Perché noi non dobbiamo soltanto pensare di uccidere l'Ender Dragon. Dobbiamo anche pensare che oltre l'Ender Dragon c'è un altro problema. Quando noi colpiamo l'Ender Dragon, scusate un attimo, dicevo allora, non dobbiamo solo pensare di colpire il Drago per sconfiggerlo, ma dobbiamo pensare che nell'End ci sono delle torrette di Ossidiana, con sopra una cosa strana, che diciamo che ricarica la vita del Drago quando si avvicina. L'unico modo per farlo smettere di ricaricarsi è colpirlo con delle frecce, proprio colpendolo con una freccia a questi cosi che lo ricaricano. Poi avremo il totale controllo perché una volta che abbiamo colpito quelle cose possiamo uccidere l'Ender Dragon, in modo abbastanza semplice, più o meno. Possiamo andare subito praticamente, ci prendiamo delle frecce, stavo per andare senza. Arrow, sì in effetti ne abbiamo qualcuna, qualcuna, ma più o pochi però. Abbiamo il libro di casa, prendiamo anche dei fish, flish, vabbè eccoli qua, facciamo lo stack, perfetto, andiamo subitissimo, anzi, 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 anzi. Prima di andare, scusate se sono lontano dal microfono, ma sto provando una nuova sistemazione, vediamo se si sente bene, poi fatemi sapere. Ehm, bookshelf 5, prendi per il culo. Ah, già già già, si distruggono, che coglione. Allora, quello che devo fare prima, è una enchanting table. Ehm, funzionava questa, non ricordo, sì, funziona la grande, eccola qui. Ehm, facciamo delle bookshelf, perché così incominciamo ad incantare, ehm, a incantare i, mh, gli archi, ecco, mi veniva il termine. Bene, facciamo uno stacchino, diciamo, più o meno. Però adesso non so dove metterli, perché non ho esattamente... Ah, giusto, nel piano... Finalmente riusciamo a sfruttare il piano di giù. Senza un enderman, non è qui, spero. No. Va bene, scendiamo su, scendiamo su. Sì, 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 scendiamo su, va bene. Da me, sì, scende su. No, ho fatto una cosa inutile. Ah, ah, ti amo. Perché qua, come sapete, lo sapete, spero, non serve a niente l'angolo, perché non viene rilevato dall'enchanting table, quindi qua possiamo metterci qualsiasi cosa. Penso a questo. Boh, una cosa a caso. Una a casa a cosa. Arriviamo sino al soffitto, togliamo queste torce. One, two, one, two. Allora, l'enchanting table la mettiamo qui, a un blocco di distanza, così. Per fortuna non abbiamo problemi di libri, perciò, bene o male, non ci interessa niente se, 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 se deve essere gigantesca, giganterica. Ma, ecco, la parola adatta. Allora, proviamo subito a nchantare, ma io non ho abbastanza livelli, però voglio solo vedere se arriva al trentesimo. Sì, perfetto. Allora, andiamo a prendere un attimino un po' di esperienza dalla nostra farm, che funziona benissimo, tra l'altro, sottolineerei una delle poche. No, vabbè, dai, tutte le farm, a parte quella di Enderman, funzionano bene. Più o meno, circa. Si è accesa tu? No. Dai, scheletri. Sì, io li accedo da bastarda. Sento, un Enderman di merda. No, no, non ci vado, non possiamo impagliare. Ok, aspetto un attimo qua, aspettate che abbassa un po' il volume. Aspetto un attimo qua, appena ho preso un po' di livelli, rincomincio la registrazione. Ah, frappè. Eccomi qua, allora, ho preso l'esperienza, ho inchantato un arco, mi è uscito Punch and Power, che non è il massimo, però vabbè, è accettabile. È giorno, grazie al cielo. E ora andiamo nel End, finalmente. Vi ricordo che l'unica volta in cui siamo andati nel End, in questa serie, è stato due puntate scorse, due puntate fa, e qua sono uscito l'altra volta e poi ho trovato il rimedio per tornare a casa, che sarebbe, oh mio Dio, non guardare nessuno, che sarebbe quello di usare il libro. Sì, io stavo già uscendo perché ero convinto che dovevo attaccarlo. Eh, lo vedete, lo vedete? Facciamole cambiare notte! Come vedete, dandolo un colpo di arco, cambiamo. Io adesso sto provando, però se diventa noioso lo faccio da solo, cioè, che balls. Poi non capisco questi bug. Che cacchio succede? Eccomi qua, allora. Vediamo se riesco a prendere. Bastardo. Sei un bastardo. Sì, aspetta, ma io posso volare. Lol. Questa cosa crea tipo un'esplosione quando viene distrutta. Una piccola esplosione, eccola qui. Oh, da qui possiamo vederle tutte. E non dobbiamo fare altro che distruggere queste e stare attenti che non ci spacchi il culo a quello. Ecco, come sto facendo adesso? Però dandone un colpo cambia la rotta, la maggior parte delle volte lo fa, perlomeno. Quindi cercherò di stare il più calmo possibile, ma come sapete, non è nel mio forte. Dai, ti prego, chiapalo. Boom! Sì, esploso. Sì, esploso. Oh, no. Dai, 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 no. No, troppo lontano. Quello però no. Eh, 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 eh. Ma io sono una pippa, naturalmente. Ma che cacchio di arco! Oh, mio Dio. Oh, finalmente. Allora, sì, quindi qua non si tratta di niente di speciale, devo soltanto distruggere queste merde e stare attento al drago perché poi dopo lo dovremo affrontare. Spero che non mi si scarichi il jetpack. Per carità. Beh, in realtà non è troppo carico. Oddio. Ho portato l'altro, vero? Sì, anche se non è il massimo. Però sarebbe meglio usare... Ma hai seduto un colpo? Aia. Cazzo. Quello che mi preoccupa di più è dove è finito il drago. Ecco. Il drago dell'end. Eh, di queste ce ne sono tipo 13, se non ricordo bene. Però comunque ce ne sono un numero limitato. Spero. Da quello che ricordo. Oddio, sto parlando di qualche anno fa perché io... Ecco. L'ultima volta che sono entrato nel nend, ehm... Avevo tipo... Non so, buono. Comunque era il tempo fa. Un arco di mierda? Oh, sono io che non lo so usare. La seconda. Allora, allora, allora. Questa parte non mi sembra troppo divertente, però non vorrei ometterla perché... Ometterla. Vedo che stai prendendo energia, brutto figlio di... Una buona donna. Aia. Non guardare nessuno. No, ho fatto un cazzo di colturo. Dov'è il figlio? No. No. Bastardo. Dai, dai, dai. Teletrasporta. Ti sto aspettando. Anche esso si teletrasporta. No, a parte di scherzo. Questo è il figlio di... Ecco dove sono gli altri. Oh, mio Dio. Moriròi. Sì, come avete capito, ci mettono un bel po'. Quindi... Boh, non ci vediamo tra poco. Credo. Sì, a frappè. Eccomi qua. Mancano pochissimi colpi. Sono morto un paio di volte. Anche per certo... Il giuocco. Dove sei? Eccoti qua. Ogni tanto scende. Bisogna stare attenti più perché passa attraverso i blocchi. Bastardo. Vi giuro che ci sono da un sacco di tempo. Figlio di... Chi mi ha sparato? Oh mio Dio, sta laggando anche... No, Nora. No, mi si è scaricato il jet. Odiosissima creatura. Sono anche andato a casa quando sono morto a prendere un safari net per provare... A creare un safari net per provare a prenderlo, ma... No, non funziona. Purtroppo. Ecco, bravo, basta. Sì! Devo fare una foto. È esperienza! Una foto all'uovo. E' un po'. Ma è vero, ho il jetpack spento. Ah, un po' di esperienza. Come se non ne avessimo già a casa. Va bene, allora. No, per prendere quell'uovo di certo non passo da lì, perché... Volete vedere i titoli di coda? Perché ci sono i titoli di coda, non sto scherzando. Eccoli qua. Basta che calchi un tastino qui. Ecco, ecco, lo sto per prendere. Ecco, ecco, ecco. Ops. No, aspetta. What the fuck? No, no. Ah, ok, era scritto il tasto. Eccomi qua, scusate. Sì, non mi ricordo cosa devo fare. Ah, sì. Allora, per prendere l'uovo non possiamo toccarlo, perché se noi gli diamo anche un leggero tap col tasto destro o sinistro del mouse lui si teletrasporta. E non sto scherzando. Perciò ho bisogno di un pistone, un pistone qualsiasi. Un pistone con le leve, perché io lo voglio con l'uovo. Non avete idea di quanto lo voglia. Leve. Non credo neanche che sia craftabile. Sei craftabile? È craftabile con i blocchi di diamante, quindi non c'è un problema. E' questo che è un problema. Perché ci vuole una Wither Skeleton che noi non abbiamo. E credetemi, non è così semplice ottenerla. Quindi, 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 dove sei? Portale End. Ritorniamo nell'end un attimino. O magari lo faccio off camera. Prendo l'uovo e torno a frappè. Ecco qui, recuperato l'uovo. Ora mi riprendo il pistone e ci rendiamo subito. Come detto ho fatto una bella protezione qui intorno per sicurezza, perché non si sa mai come va il mondo. Se cade giù, diciamo che mi incazzo, perché non so che fine fa. Vabbè, torniamo a casotta. Oh, eccoci qua. Abbiamo anche l'uovo che mettiamo al sicuro in elettronica. Mettiamo al sicuro là. Abbiamo anche un enderpearl di un bastardo. Come se non avessimo già scaricato di enderpearl. Comunque, bookshelf li possiamo mettere a posto. Lever li possiamo mettere a posto. Bone li possiamo mettere a posto. Handstone lo possiamo mettere a posto. Ne avevamo anche già un po' nell'altra volta. Bene, pistone lo possiamo mettere a posto. Ma l'arco magari ce lo teniamo così per sicurezza. E niente, un'altra cosa è fatta. Ora che abbiamo l'uovo, lo possiamo anche buttare nel cesso. Perché quello che serviva a me era l'exp. Era un po' di esperienza. Ma non... Cioè, noi abbiamo una farm, ok? Ma... Niente, mi vieta di averne molta di più in un attimo. E poi volevo farlo, stop. È quella la verità. Tu non ci sei più. La verità è questa. È che volevo combattere quel bastardo. Oddio, ci ho messo un bel po'. Infatti ho quasi finito il tempo. Ho tipo dieci minuti e un quarto d'ora per finire di registrare. Ma quelli sono altri dettagli. Allora, allora, allora. Quello che devo fare ora è una cosa molto importante. Allora, a me serviva, oltre a quello, devo prendere exp. Esperienza. Anche... Cioè, è stato un metodo come un altro. Cioè, io la farm ci metto un attimo a fare... Un bel po' di livelli. Cosa me ne frega. Ci metto un attimo. Però... Cavolo, 73 livelli in un attimo. Proprio... In un attimo. 70 livelli. 3 ce levo già, mi sembra, mi sembra. Quello che devo fare oggi è questo. Allora, non mi viene il nome. Non mi viene il nome, ma... Ma so che si chiama Diamond. Eccolo qui. Il drill. Diamond drill. Voglio farmi il diamond drill. Olè. Mining drill. Quindi è una cacchiata da fare. Lo voglio fare... Non perché... Allora, la mano è potentissima. Parliamo. La mano è molto potente. Però non si può enchantare. Quindi non si può mettere l'enchantment... Che ne so. Quello che ci dà più materiale... Che ne so. C'è la redstone. Noi con questa ne prendiamo un pezzo di red... Da 1 a 3 pezzi... No, tipo da 1 a 5 pezzi di redstone. In modo random. Per ogni blocco. Per ogni ore. E di solito ci escono numeri piccoli. Tipo 2 redstone per ogni cosa. Anche 1. Molto spesso. E lo stesso... Per il coal, per esempio, noi ne prendiamo solo 1. Cioè noi rompiamo 1 e un coal or. E ci dà un coal... Un coal e basta. Se invece noi enchantiamo, per esempio, questo drill. Che è enchantabile. E le mettiamo fortune. Magari il 3 o 4. No, il 3 è il massimo, giusto? Ci dà tipo 5 pezzi di coal o 4. Adesso non ricordo. Sempre meglio di 1. Ed è quello che faremo oggi. Queste come si fanno? Oh oh, lo facciamo assolutamente. Comunque dettagli. Allora, allora, allora. Quindi dobbiamo iniziare dal mining drill. Quindi un circuit. Ce l'abbiamo. Ray battery? Abbiamo Ray battery? No, come al solito. Porco cacchio. Alla, tin. Se non sbaglio. Copper cable. And redstone. Può essere? Yes. Ne facciamo più di una. Così. Non mi rompo le suorania. Ognà, 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 ognà. Eh, no. Già che, già che, già che ne sto. No. Adesso che mi ricordo. Eh, scrivetemi come mi sentite con questa nuova disposizione del microfono. Perché se non mi sentite bene, lo rimetto subito com'era. Perché è giusto un po' di comodità qui, capito? Eh, perché avevo avuto un casino. Insomma, advanced, no, grazie. Eh, paghiamo un po' di casino qui. Allora ho detto, ehi, aspetta, ordiniamo un po' le cose. E mi sono ordinato la postazione da registrazione. Perfetto, buttiamo questa merdaglia. Ole, ole, ce la posso fare. And tre diamanti. Azzo, non abbiamo diamanti, no, non è vero. Sì, in realtà è vero, però. Mi facciamo in un attimo con il gold. Gold. Perfetto. Ok, minimum stone. Facciamo così. Facciamo così. Perfetto. Eh, sì, questo così. Abbiamo il nostro diamond drill. Allora, sono un po' indeciso. Ah, cazzo, ho lasciato questo qua, è vero. Quando sono tolato dal coso, credo. No, ecco perché. L'ultima volta che sono morto e poi tornato nel land, sono andato senza. Oh, cazzo. È ovvio che. No, porcacchia. Porcacchio, ho detto. Volevo dire porcacchio. Cacchio, io. Scarico. No, non c'era deficiente. Questo come si faceva? Due advanced circuiti. Vabbè, 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 vabbè. Però adesso pensiamo a quello. Allora, come facciamo a incentarlo? Allora, si potrebbe incentare normalmente, ma noi, se incentiamo quello normalmente poi, ce lo dobbiamo ottenere, ci dobbiamo ottenere quello che ci esce in modo random. Noi vogliamo questo? No. È un po' come veloce. È lo stesso. No, di nuovo quel bug di merda. Di velocità è lo stesso, però questo si può migliorare, il controllo di questo che ormai è al massimo. Come facciamo? Ora ve lo faccio vedere subitissimo. E incentiamo i libri, praticamente. Allora, prendiamo un libro, lo mettiamo qui. Diciamo, 30 livelli. Efficiency 4, va benissimo. Ne mettiamo un altro, 30 livelli. Acquaffiniti. Fa cacare. Questo non ci serve. Questo ci serve e quello non ci serve. Ne facciamo un altro con questi restanti, 13. Se non sbaglio, sì, infatti. No, no. E aspetta, è incentabile. No. Tu? No, che palle. C'è qualcosa di non incentabile. I pesci. Allora, se ne prendiamo qualcosa di non incentabile e ci calchiamo col sinistro sopra, non dovremo fare togli, rimetti, togli, rimetti, togli, rimetti. 13. Protection 2. Non ci interessa. Allora, efficiency lo possiamo anche iniziare a mettere. Magari no, perché ci serve un po' di esperienza per metterlo. Quindi, devo riandare, ahimè, nella farm di Expo. Dovevo lasciarla accesa, porcacchio. Porcacchio. Volevo dire porcocacchio. Ah, ti vedi? Ciao, lava. Facciamo così. Ci si è accesa, spero di sì. Non c'è anche levato il bug. Perché non mi dà esperienza? Ah, ok. Prima c'era un bug che mi mostrava un sacco di oggetti poggiati qui e un sacco di oggetti dietro e dava fastidissimo. Va bene, ci vediamo frappè per un po' di esperienza. Eeeh, sì, ci rivediamo frappè. Eccomi qua, allora ho fatto un po' di esperienza. Sono arrivato al trentesimo livello, qualcosina in più, ma così. Giusto perché c'ero. Eeeh, devo assolutamente lasciarlo un pochino aperto il gioco. Potency. Che cos'è potency? Voglio provarlo. Spero che ci bastino i livelli perché servono i livelli. Allora, vi spiego. Per metterli nell'arma, o in questo caso nell'attrezzo, bisogna metterli nell'anvil. So che costa dei livelli anche metterli. Per esempio questo non si può mettere. Efficiency però sì. Costa sei livelli. Efficiency quattro. Vediamo un pochino com'è. E la peppa. Altro che, altro che. Allora, sì, però questo era un piccolo sipario. Lo chiudiamo qui perché c'è un'altra cosetta da fare. Allora, innanzitutto prendiamo, va benissimo questa. Prendiamo questa cesta, la mettiamo giù e ci mettiamo tutti i libri dentro. Eeeh, sì, 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 sì. Dove sono, dove sono? Eccoci qua, mettiamo qui. Ci mettiamo anche un po' di libri. Allora. Perché ho fatto questo? Ho fatto questo, oltre per il fatto che è fighissimo. Anche per il fatto che... Eeeh... La power tool non si può ricaricare in altro modo se non i metodi che ci suggerisce a questo. Ma a noi non interessano questi metodi perché fanno caccare. Noi cosa vogliamo? Ne vogliamo? Siete pronti? Ah, innanzitutto prima devo verificare una cosa. Non vi dico cosa perché sennò ho scoperto tutto. Eeeh... Non è altro che un pannello solare installato in un cappello che si può mettere in testa eeeh... Ci ricarica tutti gli oggetti dell'industrial craft che abbiamo addosso. Il che vuol dire che se io ho questo in mano, ce lo ricarica. Olè. Oppure se io ho il jetpack qua addosso e le scarico, ce lo ricarica con la luce del sole. Soltanto utilizzando la luce del sole. Il che è veramente fighissimo. E mi piace un casino. Eeeh... Sì, 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 va benissimo, va benissimo. Quindi lo facciamo subito. Tanto ho visto che è abbastanza semplice. A parte il solar panel. Vabbè, un pochino rompiballe. Tre cold dust, tre glass. Allora, cold dust. Che culo. Glass. Circuit. Cables. Ne abbiamo solo uno. Se no vogliono due, vero? Eeeh... Poi qua cosa ci vuole? Generator. Generator forse ne è... Eh, infatti. Generator ce l'abbiamo. Circuit. Quindi copper cable. One. Off. One, two, three. Alla, alla, alla. Eeeh... Redstone. Eeeh... Facciamo così perché non mi ricordo quale dei due era doppio. Ma così? No, ho fatto bene. Così non devo riprendere la redstone. Electronic circuit. Allora, li mettiamo così. Facciamo il solito solar panel. Tra l'altro ne devo fare altri. Eeeh... Perché l'ultima volta che... L'ultima volta ho fatto qualche... Eeeh... Low voltage solar array facendo dei... Ci vogliono tipo 8 solar panel per ogni... No, sì. 8 solar panel ci vogliono. Cazzo. E non è così veloce come sembra. Questa è un'altra roba. Quindi... 5 pezzi di iron e 3 copper cable. Copper cable. Dimmi che abbiamo 3 copper... Copper cable. E che cacchio sto a fare? Rubber? Cosa ne pensi? Yeah. Abbiamo un bel po' di rubber. Un bel po'. In realtà è poca, però vabbè. Facciamo così. Eeeh... Buttiamo via tutta sta roba. Quindi. Ricapitando. Allora, iron. 1, 2, 3, 4, 5. Ops. And... 3 cavetti di... Sì, di copper. La mettiamo in testa e lo proviamo subitissimo. Allora, lo mettiamo al posto di questo. Pian piano la stiamo sostituendo tutta. Poi ne facciamo un'altra più bella. Allora, calcoliamo che... 29... Allora, 2936... Eh, fai un culo. 29370. 29370. Olè. Si sta ricaricando. Questa non si carica. Perché... Vabbè, è pieno del taglio. Usiamola un po'. Che mostra anche questa, eh. Perché è sempre carica? Dove la possiamo usare? Sulla sabbia, no. Perché sabbia non ne abbiamo... Tanta. Forse è un po' là. C'è vero, sì. Andiamo a prendere un po' di sabbia così la proviamo un attimino. Qua. Inclusiamo. Giusto per scaricarla. Come vedete, è sempre carica. Azzio. Reggio bene. Sì, vince bene questo capellino. Molto, molto utile. Qua magari mettiamo la torcia perché... Vabbè, tanto spawn in tutto il resto dell'isola. Però dettagli. Vorrei evitare un po' di spawn intorno a casa mia. Ma perché cacchio ho scelto un'isola? Che balls. L'isola non è quello che si può dire conveniente, ecco. Benissimo. Abbiamo visto che funziona. Funziona alla grande, direi, alla grange. Il cellulare è al 3%, quindi evidentemente vi chiede di attaccarlo in carica. Ma io le chiedo di resistere altri 5 secondi. Oh, forse è perché lo wifi è acceso. Mio Dio, dimmi che non ti scarichi. Mi serve ancora un pochino per... Di te. Di te. Di te. Sì. Allora, allora, allora. Quindi, quindi, quindi. Fatemi pensare, fatemi pensare. Ah, ok. Ho pensato. E sono arrivato alla conclusione che dobbiamo finire anche questo adesso. Ma io non lo voglio fare. Però lo devo fare perché mi serve. Anche prima mi è servita questa. Però non capisco perché non arriva l'energia. Eppure, azzopalazzo, arrivano dei cavi anche quelli potenti. Non cagatini, diciamo. Non capisco perché ci sia di sbagliato. Cosa è esploso? Ah, era quello il problema. Era this il problema, motherfucker. Motherfucker. Sei un motherfucker. Quindi, MW. Vediamo se abbiamo degli MW così. MW. LW. Che balls. Dobbiamo fare degli MW. Tizi. Per vista che ci vogliono anche gli HW. Quindi. HW. Come si fanno? Quindi MW Transformer. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora. Quindi dobbiamo fare un MW Transformer. Quindi MW Transformer. Quindi MW e 2 MW. Sì, ti amo, ti amo, ti amo. MW. MW ce l'abbiamo. Poi ci serve... Ah, ci serve... No, questo lo possiamo dare un attimo. Questi qua come si fanno? Allora, ricapitando. Si fanno... MW. MW. Oh mio Dio, è troppo lunga. Allora. Refined Iron. In mezzo al... Alla rubber. Alla gomma. Allora, quattro gomme. Se non ho capito male. Ok. Ce ne prendiamo anche otto. Poi. Così. Ah, fatto. Sono questi, vero? No, no, quattro per. Ok, buttiamo sta merdaccia. Quindi abbiamo i cavetti, i circuiti. Non ne abbiamo. Porca vacca, porca vacca. Quindi copper. Redstone. Che finisce sempre in frettissimo. Quindi dovrò ricreare un query e rimetterlo. Ne facciamo tre. Così due li mettiamo qui. E uno ce lo prendiamo. E poi, poi, poi ci servono questi che si fanno con diamante ricoperto di... Diamante ricoperto di redstone. Che romantico. Eh, redstone. Ok. Fatemi controllare l'ora. Sì, più o meno va bene. Anzi. In realtà sono di tardissimo, però. Dettagli. Dettagli. Facciamo questo così. Questo così. Mamma mia, che casino. Questo così. Eh, ma io ho leggermente paura. Quindi lo proverei nel mondo in creativa. Non capisco perché. Ma qui funziona. Anche senza le HV. Transformer. Tizio Caio Sempronio. Ho ricreato più o meno... Vabbè, qua ho messo più pannelli perché abbiamo bisogno di molta energia in un lampo. Tu che cosa sei. Ah, le prove dello spawner di... Di scheletri. Comunque, ho anche spostato il cavolo. Allora, forse ce la facciamo. Quello che volevo farvi notare è questo. Sì, funziona. Però sta scendendo vertiginosamente... Vertiginosamente... Eh, l'energia. Eh, non capisco il perché. Sarà per la distanza. Eh, proviamo a mettere un... Un MV... Transformer... Ma che cazzo ho fatto? Un MV Transformer qui. E proviamo un attimo. Allora, facciamo così. Olè. Poi abbiamo un Induction Furnace qui. Vediamo se sale. Sì. Vediamo una torcia... Una torcia, scusate. Una leva qui. E vediamo se fa la stessa cosa. Innanzitutto qua controlliamo. Sì, sta scendendo molto, molto, molto velocemente. Qui come siamo messi? Dove il 2%? Comunque credo proprio che dipenda dalla... Dalla... Come dire? Eh... Dalla... 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 Ce la posso fare. Dalle misure... Non mi viene il termine. Dalla distanza tra l'MFSU e... L'Induction Furnace. Per esempio qua non sembra che stia scendendo. Credo. Quando ci sono problemi di energia... E scende lo stesso. E non capisco il perché. Allora, ciccia. Senti un po'. Se ti attacco questo, tu esplodi. L'abbiamo già provato e lo voglio... No. Ho deciso di no. Ma prima si è esploso. Perché l'ho messo male. O forse perché sto mettendo il MFSU. Così. Esplode, guardate. Boom. No, no. Questo non lo capisco davvero. Però se la tolgo esplodi. Vero? No. Oh, esplodi porca vacca. Oddio sta rilaggando. Ma che cazzo c'ha oggi Fraps? Allora, HV Transformer. Prendiamo l'induction furnace ed esplode. Perfetto. Allora, non era un'immaginazione. Perché li fanno così complicati? Va bene, ragazzi. Io ho finito il tempo. Quindi passo dall'altra serie e vi saluto qui perché... Cioè, non ho proprio tempo. 0, 0, 0, 7. 0, 7. 0, 0, 7. Allora, io sono Spigalaventotto. Se il video vi piaciuto... Sì, Sfigan... 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 Io sono Spigalaventotto. Se il video vi piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi, condividete. Vi trovate sempre su Twitter, Google Plus, sul mio sito Spigalaventotto.x10.mx E su Facebook digitando facebook.com slash Spigalaventotto ufficial. Io sono Spigalaventotto. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.